Con sentimenti di vergogna e di lutto, mi inchino dinanzi ai morti della strage di Civitella. A qui presenti, ai sopravvissuti, alle vittime ed ai loro discendenti, voglio dire, perché noi tedeschi sappiamo quanta responsabilità abbiamo sino ad oggi per le altre città commesse dai nostri connazionali. E nelle parole del ministro degli esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier, durante la cerimonia in ricordo delle vittime della strage nazifascista di Civitella del 29 giugno del 1944, la conferma di come la memoria sia ormai diventata una memoria europea. E' questa forse una delle più grandi conquiste da parte di coloro. Associazione Civitella Ricorda, Comune di Civitella e Provincia di Arezzo, si sono sempre battuti negli anni contro la divisione e l'odio per la conservazione della memoria. La presenza del ministro tedesco è un gesto umano, politico, storico, profondamente sentito da noi italiani, ha detto il ministro degli esteri italiano Federica Mogherini. E' incredibile vedere come a 70 anni di distanza tra l'Italia e la Germania c'è un'agenda comune. di lavoro insieme in Europa, per l'Europa, per i nostri cittadini. E soltanto 70 anni fa sarebbe stato impensabile e questi luoghi ce lo ricordano molto bene. Questo è frutto di una volontà politica lungimirante, visionaria, del lavoro costante che è stato fatto per la costruzione di uno spazio comune europeo, che è quello che ha consentito di arrivare fin qua. E poi un abbraccio che sa di riconciliazione, che per avverarsi non può, come ha sottolineato lo stesso ministro tedesco, che partire da una memoria accertata e accettata. 244 morti tra uomini, donne, bambini, a Civitella, Corne e San Pancrazio, con una vicenda giudiziaria che è stata a suo modo un'altra guerra finita, se possibile, in maniera ancora più mostruosa. Ed ecco che proprio la conservazione della memoria diventa il simbolo della pace. Il castello di Civitella in Valdichiana, restaurato e sede del Museo della Memoria, è l'augurio che si fa il sindaco Ginetta Menchetti. Vedere restaurato il castello, affinché possa diventare un museo delle stragi, un luogo della memoria, depositario di tutte le memorie e simbolo di pace. Grazie. Grazie.